Chiuso a Palermo un locale in cui sono state sorprese a ballare 300 persone disattendendo le norme anti-covid. Il blitz dei finanziari del comando provinciale di Palermo insieme a pattuglie della divisione polizia amministrativa di sicurezza della questura è scattato in un locale di via Messina Marine adibito di fatto a discoteca. Il controllo è scaturito da un'attività preliminare svolta dalle fiamme gialle. L'evento era ampiamente pubblicizzato sui social media invitando gli interessati alla partecipazione a quella che a detta degli organizzatori sarebbe dovuta essere una festa privata. Giunti sul posto gli investigatori hanno constatato la presenza all'interno del locale di circa 300 persone intente per lo più a ballare non rispettando le disposizioni sul distanziamento. Il titolare della struttura e l'organizzatore dell'evento sono stati denunciati e multati.